Musica Buonasera da Fabio Ferri, amici di T-Sport, bentornati all'appuntamento di Itale Irde dedicato al mondo sportivo della provincia di Firenze e della regione toscana nell'edizione odierna andiamo a parlare nello special modo di ciclismo e lo facciamo con due ospiti in studio che andiamo subito a presentare Mauro Noferini e Guglielmo Braccesi Buonasera a tutti e due Allora, Mauro che ricopre il ruolo di vicepresidente Guglielmo che invece è consigliere e esperto di mountain bike parliamo in particolar modo però di una società mugellana di una società a forte carattere mugellana nata nel 2014 andiamo subito a vedere anche grazie al nostro regista Emanuele la maglia che ci fa vedere quanto mugellana veramente anche nei colori e soprattutto appunto nella grafica della maglietta parliamo di una società che appunto il Mugello muove i primi passi il Mugello nasce e del Mugello vuole essere rappresentante di cosa parliamo? Allora parliamo di Mugello Toscana Bike che è nata nel 2014 e vi parlo, vorrei prima fare proprio prima di dare i programmi dell'anno del Mugello Toscana Bike vorrei parlare proprio di come è nata questa società perché ha un significato particolare perché questo rappresenta un territorio non è la solita società che rappresenta uno sponsor ma rappresentiamo un territorio per intero questa è nata da un gruppo di amici che andavamo in bicicletta già dieci anni fa e andando in giro per le manifestazioni nazionali, internazionali noi ci piace anche fare del turismo in bicicletta diciamo che nessuno ci vedeva nessuno capiva che cosa eravamo allora un giorno parlando tra di noi è venuto in mente di fare questa maglia tra l'altro uno del gruppo è venuto in mente di fare questa maglia con l'immagine del Mugello perciò abbiamo fatto Mugello Toscana questa maglia Mugello Toscana che poi è piaciuta anche alle istituzioni la comunità montana si è preso un po' corpo di questo durante un anno ha stampato molte di queste maglie sono andate in giro e abbiamo visto il successo di questa maglia avete creato un brand abbiamo creato un brand è nata un'idea un giorno diciamo che abbiamo fatto una riunione c'era il nostro presidente che stasera purtroppo non è potuto venire all'appuntamento perché è influenzato Marco Monci che aveva un'idea in testa cioè quella di fare riunire tutte le società mugellane in un'unica società abbiamo fatto questa riunione e chiaramente il campanilismo ha bloccato tutto allora io ho detto all'amico Marco Monci facciamo una cosa diversa partiamo con la nostra idea noi partiamo con l'immagine del Mugello facciamo questa società anche se abbiamo deciso di chiamarla Mugello Toscana Bike e poi vediamo come confluisce gli atleti infatti nel giro di tre anni siamo arrivati ad essere la società più grossa diciamo del settore del Mugello abbiamo già 125 tesserati con un'ottantina di soci simpatizzanti diciamo del nostro gruppo questa maglia viene portata in giro con soddisfazione perché è veramente bello partecipare a delle manifestazioni rappresentando un territorio perché il Mugello diciamo che quando andiamo in giro per il mondo perché si fanno gare in Italia si fanno fare gite in giro per il mondo è conosciutissimo per l'autodromo del Mugello infatti in Spagna tutti ci facevano il verso della moto quando eravamo in giro di Spagna ma forse quello perché andavate troppo forte no, perché avevamo l'immagine del Mugello poi è conosciuto per i tortelli questo in tutta Italia quando si parla di Mugello si parla di tortelli e ogni tanto si trova qualche persona un po' più acculturata e ci parla anche di Giotto e della famiglia dei medici sempre proveniente da Mugello ma tutto questo diciamo che ha reso orgogliosi tutti coloro che vanno in giro con questa maglia e di portarla in giro nelle manifestazioni varie che esistono e effettivamente sta dando una grossa soddisfazione sia a noi e anche al territorio chiaramente avendo creato un gruppo così importante ci stiamo impegnando anche a creare delle manifestazioni che portino gente nel Mugello perciò quest'anno la nostra associazione mette in piedi quattro eventi di cui il primo è il Collanonda poi abbiamo la Gran Fondo di Mountain Bike fatta sul Monte Giovi e anche poi altre due manifestazioni che poi dopo ci illustreremo durante la... cioè lascia qualcosa da dire anche a Guglielmo se no stai esorrendo tutti i temi a questo punto io vi presento la manifestazione del Collanonda poi passo la parola a Guglielmo perché è lui lo specialista del... Possiamo aggiungere solo una cosa che sulla splendida maglia che ci avete fatto vedere con il nome Mugello e con appunto questi colori che sono anche subito balzan al occhio C'è la chicca Esatto, ci sono due chicchette Parli anche da queste due chicche La chicca è che siccome il Mugello ha avuto anche altri personaggi nel mondo del ciclismo ce ne sono stati tanti ma ce ne sono stati due forse più importanti di tutti Allora sulla maglia abbiamo messo anche il simbolo del Giro d'Italia del 57 vinto da Gastone Nencini e il Tour de France del 60 Questo per... Dall'altra parte abbiamo il simbolo della Paris-Giroubaix con Franco Ballerini che l'ha vinto nel 95 e nel 97 cioè questo è un'altra delle nostre diciamo... Dei vostri banti dei nostri orgogli ovviamente territoriali Perché questa è la maglia che deve rappresentare il Mugello Con la ronda E tra l'altro prima vorrei fare un piccolo stacco perché c'è una cosa importante perché quest'anno ricordano i 60 anni della vittoria del Giro d'Italia di Gastone Nencini perciò stiamo lavorando con le altre società mugellane con il ciclotour e altre società mugellane per organizzare il 18 quando passa il Giro d'Italia il 18 di maggio la pedalata rosa che sarà organizzata partendo da Bilancino dal luogo di nascita di Gastone e creeremo proprio un'immagine ancora più forte del Mugello che tiene alle sue diciamo ai suoi idoli perché Gastone è stato uno dei grandi il leone del Mugello così ve ne va chiamati infatti questo verrà fatto il 18 di di maggio quando passa il Giro allora partiamo da Colo Aronda Colo Aronda nelle gare cicloturistiche è una delle gare forse più particolari perché l'abbiamo organizzata un po' diversa da tutti gli altri praticamente facciamo tre passi appenninici perché partendo da Saginale facciamo il passo della Colla scendiamo a Marradi il passo Carnevale scendiamo a Palazzuolo e a differenza delle altre cicloturistiche che stanno in particolare da Palazzuolo al passo della Sambuca diciamo che tutti avranno il chip per poter prendere il tempo perciò ognuno si potrà misurare sulle prestazioni che è una cosa un po' diversa da tutte le cicloturistiche però siccome chi fa sport a volte vuole anche provare misurarsi l'emozione misurarsi un attimino e allora diamo anche questa soddisfazione in un paesaggio che naturalmente la Sambuca è un qualcosa di cartolina che non ha niente da invidiare alle montagne dolomitiche con poi il rientro a Saginale e lì degustazione dei tortelli di Saginale giustamente altra cosa che per il Mugello diciamo è fondamentale fa parte proprio del nostro territorio a questo punto io lascerei la parola certo andiamo anche da Guglielmo Braccesi che finora è rimasto lì in disparte che Mugellano lo è di adozione ci ho detto perché viene da Pistoia ma ti sei subito lanciato in questa esperienza del Mugello Toscana in Bike e curi in particolar modo la parte della Gran Fondo quella più legata alla Mountain Bike sì io nasco come come Mountain Biker e appunto ho trovato questo gruppo molto molto attivo che mi ha dato la possibilità di diciamo di portare avanti alcune iniziative che mi interessavano due manifestazioni quest'anno fuori stradistiche la seconda Gran Fondo del Mugello quest'anno primo trofeo Makus è la Gran Fondo gara agonistica competitiva alla quale che verrà svolta diciamo sulle pendici del Monte Giovi un percorso molto bello molto tecnico impegnativo nel quale gli atleti potranno appunto mettersi alla prova sarà un percorso che avrà la quasi totalità fuori stradistica c'è soltanto un 2% d'asfalto per cui assolutamente mountain bike la mountain bike vera come quella che andiamo a fare sulle Dolomiti o in altre zone molto conosciute è una gara di 48 km avrà circa 1700 1650 metri di dislivello quindi sicuramente una manifestazione impegnativa partirà anche questa partenza e arrivo assagginale sempre al campo sportivo proprio per la possibilità di avere un'area logistica che permetta sia diciamo la doccia per gli atleti sia fornire un pasta party finale come noi diciamo vogliamo fare una cosa anche questa diversa rispetto a quello che troviamo normalmente nelle manifestazioni sportive di mountain bike offriremo un pranzo completo a base di tortelli quindi una cosa abbastanza convivabilità socialità oltre che sport oltre che salite oltre che discese impegno e divertimento sicuramente seconda scusami vai pure avanti seconda manifestazione è quella invece dell'iron bike non è una manifestazione agonistica è il rilascio di un brevetto in pratica è una modalità un pochino diversa da quello che troviamo nel panorama fuoristradistico classico viene fornita una traccia gps ad ogni atleta il quale autonomamente e in libertà di tempo potrà percorrere il suo percorso riportando poi la prova della traccia acquisita questa appunto come dicevo non è una competizione agonistica è semplicemente un riconoscimento a chi riuscirà a portare a termine questo percorso che ricordo è molto impegnativo perché sono oltre 90 chilometri di fuoristrada e circa 3.000 3.500 metri di dislivello qui una cosa sicuramente non alla portata di tutti richiederà una preparazione atletica non indifferente però un qualche cosa di diverso che verrà fatto sempre partenza e arrivo da Sagginale ma toccherà molti comuni del comprensorio mugellano da Vaglia da Fiesole da Santa Brigida fino a Pontassieve Vicchio di Comano e ovviamente Borgo è una manifestazione come ho detto è una manifestazione un po' nuova però contiamo di di avere un buon risultato anche sotto questo aspetto si parla in genere torno da Mauro per quanto riguarda le vostre manifestazioni sia su strada sia su monta bike di oltre le 100 unità ovviamente e quest'anno puntate ad avere un risultato maggiore potremmo raddoppiare il 180 dell'anno scorso li potremmo raddoppiare invece vi volevo portare anche su questa novità assoluta che porterete poi a Borgo proprio nel Foro Boario il 17 dicembre 2017 questa è la chicca di chiusura dell'anno diciamo perché è venuto fuori questo programma questo fa parte di un circuito di 7 gare in Toscana di ciclocross ciclocross che poi può essere diciamo alla portata diciamo alla possibilità di essere visto da tutti perché viene fatto in un circuito ristretto di un chilometro e mezzo un chilometro e sette e verrà fatto giù nella zona del Foro Boario ovviamente si va in mountain bike è ciclocross ciclocross è bici da corsa con le ruote con le ruote con le ruote ah ok a veri ciclocross non è la mountain bike non è la mountain bike è una cosa diversa ed è la prima volta forse nel Mugello quindi la vedremo per la prima volta verremo con una gara di ciclocross sempre 2017 com'è andare con la bici da ciclocross rispetto a una bici da mountain bike ma è molto molto interessante è un'attività che sta ritornando molto in voga l'abbiamo vista in televisione abbiamo avuto i mondiali recentemente è un'esperienza sicuramente interessante tu lo farai Mauro? no assolutamente io già vado su strada comunque terminando invece sul ciclocross il ciclocross fa parte di questo circuito e verranno atleti dalla provincia fuori provincia è un circuito toscano per cui verrà fuori qualcosa di veramente carino insomma essendo una cosa che tutti possiamo stare a vedere quindi si potrà seguire anche l'evoluzione della competizione e vorrei ringraziare tutto questo perché se abbiamo la possibilità nell'anno di fare tutte queste cose perché il gruppo è così cresciuto è diventato così importante perché come sai benissimo per fare le cose ci vogliono le persone certo soprattutto quando si parla del volontariato di sport infatti nel nostro gruppo sono confluiti quelli di Sagginale che era il gruppo di Guglielmo poi c'erano quelli del sabato quelli della domenica sono arrivati da Vicchio da Di Comano insomma siamo diventati veramente quello a cui che ci eravamo prefissi insomma cioè di diventare un gruppo Mugellano ma infatti prima di entrare qua in trasmissione mi hai detto noi siamo andate avanti anche la politica sì questa è una battuta che mi fa il nostro sindaco è una battuta voi siete più avanti di voi perché noi tanto che parliamo di Mugello non siamo riusciti a farlo e voi nel vostro sport siete riusciti a fare il Mugello e diciamo che abbiamo avuto che stiamo avendo anche delle grosse soddisfazioni da questo punto di vista insomma avete capito si tratta di appassionati di appassionati che oltre a vivere in prima persona poi lo sport della bici organizzano e organizzano anche tanti appuntamenti il nostro tempo però è concluso e ovviamente continueremo a seguire quanto il Mugello Toscana Bike farà nel corso dell'anno anche nei prossimi appuntamenti di T-Sport io intanto però ringrazio il vicepresidente Mauro Noferini e il consigliere Guglielmo Braccesi per essere stati con noi ovviamente l'appuntamento a T-Sport torna domani a partire dalle 19 con tutto il programma del weekend tutti gli sport fiorentini e toscani cosa ci porteranno in dote per questo fine settimana lo scoprirete ovviamente qua con tutto l'aggiornamento partendo dal calcio per arrivare fino al rugby senza dimenticare le altre discipline che seguiamo che fanno parte del nostro bouquet sportivo ovviamente parlando di basket e pallavolo un saluto da parte di Fabio Ferri e arrivederci a domani per un'altra edizione di T-Sport di T-Sport